Buongiorno signora Balbo Sonia, mi vuol dire da dove viene e quanti anni ha gentilmente? Allora, vengo dalla Svizzera e ho 44 anni. Ecco, che tipo di intervento ha fatto con me nel 2012? La mini keratomia, keratotomia, keratotomia radiale asimmetrica per la correzione del keratocono. Ne è rimasta contenta? Assolutamente sì, ho migliorato veramente tanto, posso portare la macchina con gli occhiali. Ok, oggi vede se non sbaglio con la correzione residua quanti decimi per ogni occhio? 10 decimi per ogni occhio. La situazione è più peggiorata, ha avuto problemi, ha avuto peggioramenti della vista, gli occhiali sono rimasti sempre uguali da allora? Sì, cambia, cambia qualcosina appena, ma sono rimasti uguali, è una cosa favolosa. Perfetto, lei lo consiglierebbe questo intervento per chi è affetto da keratopono? Sì.